benvenuti in un nuovo video oggi vi farò vedere come cercare informazioni su un veicolo allora basta scaricare questa applicazione che si chiama info targa e qui possiamo scegliere se auto moto via dicendo mettiamo la nostra targa è possibile farlo anche con la voce metto l'appunto che mi hanno rubato vedete qui indica l'assicurazione qua in alto indica se è stata rubata non è aggiornatissimo perché a me ancora non risulta il frutto della mia vedete non risulta rubata però ci vuole un po di tempo 80 80 per la revisione il veicolo non era ancora adatto alla revisione e qua abbiamo per il bollo sempre inserendo il capta il bollo funziona dalle 7 alle 24 ok non me l'ha preso ecco qua effetto la ricerca e non mi ha preso il cap c'è giusto ci do le effettua ecco qua vedete ci risulta anche quanto paghiamo di bollo e quando è stato pagato l'ultimo sotto ci da altre eventuali idee dati la classe energetica scusate la classe degli scarichi l'hanno ancora stata comprata l'immatricolazione e via dicendo questo è tutto se vi è stato utile questo video lasciate un like e iscrivetevi al mio canale un saluto al prossimo video